Il sindacato lancia un patto per la Sicilia, la proposta di fare un patto per le riforme in Sicilia. Il PD raccoglie l'appello ed è pronto ad affrontare assieme alle organizzazioni sindacali e alle forze sociali con le quali vorrà costruire un rapporto costante e permanente un patto che in qualche modo faccia uscire la Sicilia da questa sindrome negativa. Ciò che sarà la Sicilia dipende innanzitutto da noi siciliani, quindi abbiamo il dovere come classi dirigenti di assumerci la responsabilità di avviare quei processi di riforma che è utili a cambiare la Sicilia, ad affrontare i problemi drammatici che oggi vive la nostra regione a partita dal tema del lavoro, della ripresa dello sviluppo e di una pubblica amministrazione che deve essere semplificata, più snella, meno nemica di chi vuole creare lavoro e sviluppo. Siamo di fronte ad un fatto importante. Il capogruppo del principale partito che sostiene nel governo sente il bisogno di confrontarsi con le organizzazioni sindacali, noi come organizzazione sindacale auspichiamo che ci sia un cambio di passo, un cambio di passo di fronte a quelle che sono le criticità di queste regioni, criticità che stanno alla base di una ripresa economica che ancora in Sicilia non si vede. Dobbiamo partire dai settori produttivi, dall'industria, dobbiamo partire dal recupero del capitale umano. Negli anni della crisi in Sicilia molti giovani hanno abbandonato questa terra, hanno preso la strada dell'emigrazione 12.500 all'anni e poi c'è un tema che ha a che fare con le nuove povertà. Negli anni della crisi il settore produttivo si è cancellato per il 40%, il 40% della capacità produttiva di questa regione è andato in fumo. Ripartire da queste risposte, ripartire dalla ricostruzione di questi settori produttivi, lo dico pensando alla Fiat Termine, all'Ene di Gela, a tutte le aree industriali di questa regione che sono ormai desertificate. Ripartire in più ai tanti poveri e il tema dell'inclusione sociale è un tema in linea con i dettami dell'Unione Europea e questa regione deve sforzarsi di più perché un cittadino su due, una famiglia su due in questa regione vive uno stato di deprivazione e poi il tema delle riforme. Si sta iniziando con i liberi consorsi, è una riforma importante ma che ancora vede una regione molto frenata e poi ci sono ambiti come l'acqua, come i rifiuti, i beni comuni che può diventare una partita di rilancio non indifferente per questa regione. Oggi col capogruppo del PD, Cracolici, si sta parlando di un metodo nuovo di lavoro, cioè di un confronto, di una partecipazione delle forze sociali coinvolte in un futuro prossimo nelle attività legislative, effettuando un confronto serio di merito sulle riforme che si devono attuare anche in Sicilia in maniera concreta e molto rapidamente. Bisogna puntare anche soprattutto alle azioni di rinnovamento anche della pubblica amministrazione regionale ma guardando con un occhio particolare allo sviluppo industriale che in questo periodo in Sicilia è venuto meno, cioè si rischia una reale di certificazione industriale, quindi bisogna rilanciare il polo industriale di Gela, di Priolo, di Milazzo ma anche di Termini Manese, la cantieristica navale, quindi elementi fondamentali dove misureremo l'impegno dell'azione dei gruppi parlamentari ma soprattutto del governo per creare lavoro produttivo, lavoro concreto che sia di sviluppo per il futuro. Abbiamo bisogno di risposte concrete, la gente non ne può più di crisi politiche che parlano solo tra i politici, bisogna che si cominci a rispondere ad aspettative di emergenze immediate. Ci sono 170 milioni di ammortizzatori in deroga che devono essere dati dal governo nazionale che restano fermi e ancora non si capisce perché e la gente non ha una lira da sei mesi, non si può andare avanti in questo modo. Ci sono due miliardi da investire sulla raffineria, l'ex raffineria di Gela che devono essere spesi e le produrre ancora tardano. O cominciamo a dare risposte concrete o di fronte a una situazione di disoccupazione, al sistema dei trasporti completamente collassato, questa Sicilia sembra non avere più speranza. Noi non possiamo accettare questo, quindi rimboccarsi le mani e cominciare a lavorare, occuparsi meno delle crisi politiche ma delle cose concrete di cui la gente ha bisogno. Grazie a tutti.